Siamo con Bomber Burdisso, è fatto gol oggi, è sbloccata la partita con la rete dell'1-0. Vittoria giochi a stanca Scavuzzo, secondo te è una vittoria meritata oggi? Da quanto visto dal campo è stata una partita difficile, molto combattuta, sempre palle alte, è sempre una partita abbastanza brutta, però alla fine abbiamo vinto 2-1 e meritato o no? Secondo me siamo stati più cattivi di loro e alla fine diciamo che l'abbiamo meritato. Stai facendo un grande campionato, a mio avviso, comunque quest'anno sono già a 5 centri stagionali, mi sembra, con uno in Coppa Italia, in Coppa Liguria, più 4 in campionato, qual è il tuo obiettivo di reti? Il mio obiettivo è sempre andare in campo ogni domenica per fare una grande partita e aiutare i miei compagni, poi quando viene il gol è normale che sono più felice e mi viene sempre più voglia di giocare, però obiettivo non lo so, non voglio dire niente perché va bene così, ogni domenica per vincere basta. Grazie, grazie.